Hi guys, welcome back to my lesson, ciao a tutti e bentornati alle mie lezioni di inglese. Nel video di oggi vorrei proporvi altri 5 libri da leggere in inglese, questa volta perfetti per coloro che hanno un livello di inglese, direi, intermedio, preavanzato. Come nel video precedente di inglese, ho diviso questi libri, li ho presi singolarmente, li ho analizzati e ho specificato, secondo me, per quale motivo si prestano per essere letti da lettori, scusate il gioco di parole, che abbiano un livello di inglese intermedio. Sono alcuni libri conosciuti, altri magari un pochettino meno, magari ve li faccio riscoprire io. Se li volete acquistare potete trovare nel mio Amazon Shop in descrizione a questo video, altrimenti potete fare come ho fatto io, andare in biblioteca e prenderli in prestito. Quindi, direi che è arrivato il momento di cominciare, andiamo a vedere e a scoprire il primo libro che vi consiglierei se avete un livello di inglese. Prima di cominciare, come sempre, vi invito a venire su Instagram, alla pagina Asculto You underscore Milan, dove l'apprendimento continua. Vi invito anche a scoprire i miei video corsi di inglese, ve li metto qui sopra. E, eventualmente, vi invito anche, se non l'avete ancora fatto, a descrivervi a questo canale per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. E adesso, andiamo a scoprire il primo libro che, secondo me, si addice a uno studente che abbia un livello intermedio di inglese. Per chi ha un animo romantico, One Day, questo libro di David Nichols, secondo me, è molto interessante, molto carino, ed è perfetto per un livello B2-C1. È un po', diciamo, impegnativo, quindi se vi piace leggere direi che è l'ideale. E la trama completa la trovate in descrizione del video, così come tutte le altre trame che ho raccolto e scritto in italiano, così potete capire qual è il libro che si addice a voi, anche per cosa racconta il libro di per sé, non solo per il livello di inglese. Diciamo che questa è una storia d'amore di due ragazzi che si lasciano un giorno e poi, one day, sempre quello stesso giorno, sono destinati a rincontrarsi o comunque a rimanere in contatto, perché per loro è un giorno speciale. Andiamo a vedere insieme la scheda di questo libro. One Day di David Nichols, del Regno Unito, con un anno di pubblicazione abbastanza recente, direi il 2009. Secondo me è perfetto per un livello B2 perché ci sono molti dialoghi dinamici ed un narratore in terza persona, vocaboli e modi di dire attuali e moderni che permettono di ampliare il proprio vocabolario, con l'uso di frase verbs e modi di dire colloquiali. Quindi One Day è il primo libro che vi consiglio. E il secondo libro che vi consiglio, per chi è un animo romantico e chi non necessariamente apprezza libri leggeri, ecco, diciamo così, è sicuramente questo. The Fault is in Our Stars. Letteralmente è colpa delle stelle, o meglio, la colpa è nelle nostre stelle, di John Green. Questo best seller è diventato anche un film, magari qualcuno di voi l'ha visto, e l'ho trovato molto scorrevole, non fosse altro che io non sono proprio un amante dei libri o delle storie che sono, diciamo, un po' tristi di per sé perché la protagonista ha 16 anni e ha un tumore e incontra però in uno di questi gruppi, diciamo, di terapia dove si para della propria condizione di salute un ragazzo del quale si innamora. Il libro l'ho trovato veramente molto fresco, l'ho letto anche una parte appunto per poterla analizzare e ne ho tratto una scheda che sto per mostrarvi. Eccola qua. The Fault is in Our Stars. John Green, 2012, molto recente. Livello di inglese ancora una volta direi B2. Dialoghi giovanili con modi di dire ma di facile comprensione. Monologhi con una narrazione scorrevole e autoironica, benché il tema trattato sia molto profondo e commovente. Quindi questo libro tutto sommato è un multi-million, praticamente best-seller, è stato venduto tantissimo in tutto il mondo, appunto ne hanno anche tratto un film. Vi davvero vi consiglio di leggerlo perché ha tantissimi modi di dire, i dialoghi sono molto dinamici e per niente scontati e ha una grammatica direi anche accessibile appunto a chi ha un livello B2. Quindi The Fault is in Our Stars è il secondo libro che vi consiglio per un livello B2. Esploriamo il mondo un po' più gotico fantasy con Twilight. Twilight che è un romanzo che racconta la storia dei vampiri. Sicuramente l'avrete sentito nominare perché è diventato una saga famosissima anche dal punto di vista cinematografico. Questo libro che è stato tradotto in tantissime lingue di Stephenie Meyer, secondo me è perfetto per tutti coloro che hanno un livello intermedio pre-avanzato. Anche questo è abbastanza lungo e se vi piace il genere e la modalità di scrittura della scrittrice, dell'autrice, potete continuare a leggere altri libri perché questo è solo uno della sua serie. Andiamo a scoprire adesso perché, secondo me, è perfetto per un livello intermedio pre-avanzato. Twilight di Stephenie Meyer, degli Stati Uniti questa volta l'anno del 2005, comunque sempre recente, è un racconto in prima persona di una ragazza adolescente e il romanzo presenta un vocabolario ad un registro moderno e contemporaneo. La trama è scorrevole ed il linguaggio non troppo elaborato. Diversi verbi alla forma del simple past e frasi al condizionale permettono un ripasso costante della grammatica. Cambiamo genere adesso e una grandissima scrittrice famosa in tutto il mondo è Daniel Steele, che ha... I suoi libri sono stati sempre tradotti anche in italiano, magari qualcuno di voi li ha letti. Ha una scrittura molto leggera, ma è capace di parlare davvero di tutto in modo molto molto elegante. Questo romanzo, che in inglese si chiama Granny Dan, parla della storia di una nonna che in realtà era una ballerina, la ballerina dello zar. Questo è il titolo italiano di questo romanzo, la traduzione è la ballerina dello zar perché proprio racconta la storia di questa donna che era una bravissima ballerina della Russia che però la rivoluzione, la malattia, la guerra e un uomo nella sua vita l'hanno, diciamo, costretta a prendere delle decisioni importanti che leggerete in questo romanzo. Vado a presentarvi adesso la scheda del libro per farvi capire come mai si addice ad un livello intermedio per avanzato. Granny Dan, Daniel Steele, degli Stati Uniti, l'anno il 1999. Un romanzo narrato in prima persona con una trama leggera benché profonda. Presenta molti verbi al passato remoto e qualche dialogo che spezza il flusso di pensiero della protagonista. La grammatica è nel complesso semplice con diversi connettori di testo che rendono ancora più scorrevole e coesa la lettura. Concluderei questi libri con un best seller e con un libro che è famosissimo in tutto il mondo che è Animal Farm di George Orwell ed è un libro del 1945 ma sempre profondamente attuale. Benché sia molto piccino, non fatevi trarre l'inganno perché è un libro che apparentemente ha una grammatica semplice ma ha un messaggio molto profondo e critico come è tipico di George Orwell. Quindi secondo me questo è un libro perfetto perché è un livello intermedio ma per capirlo a fondo secondo me bisogna sconfinare un pochettino nel livello pre-avanzato. Andrei adesso a farvi vedere la scheda che ho creato di questo libro. Animal Farm di George Orwell, Regno Unito, 1945 Livello d'inglese B2C1 Questo libro ha una trama facile da seguire ma non è semplice comprendere tutte le sfumature in esso contenuto. È un libro breve quindi si può leggere con calma per apprenderne al meglio il significato. Descrizioni molto dettagliate e precise con molteplici aggettivi che è necessario capire al meglio per cogliere a pieno il messaggio critico del suo autore. Questi secondo me sono 5 libri perfetti per un livello intermedio e pre-avanzato tuttavia se non siete sicuri e se avete un po' paura di non riuscire a capire tutto di questi libri perché comunque l'attività di lettura di un libro in lingua è altamente difficile e per niente facile vi consiglio comunque di dare un'occhiata, ne ho messi alcuni nel mio Amazon Shop ma c'è veramente una scelta ampissima dei libri della Black Cat che hanno un livello scritto qui e diciamo decidete voi qual è il vostro livello questi libri sono perfetti per coloro che vogliono affacciarsi alla lettura in inglese ma che magari non vogliono perdere mille ore a cercare le parole sul dizionario perché sennò la lettura non diventa più piacevole e ci sono già delle trascrizioni di parole difficili all'interno di ciascuna pagina con delle attività e anche il cd per ascoltare proprio l'audiolibro o ormai c'è anche l'applicazione che si può scaricare quindi secondo me questi sono libri perfetti per milioni insomma spero davvero che questi libri magari qualcuno di voi ne ha già letti alcuni o magari volete consigliarci degli altri libri da leggere perché io e sicuramente le altre persone che seguono questo video hanno piacere di avere altre magari informazioni altri consigli vi chiedo magari di scrivere nei commenti il vostro punto di vista e cosa avete fatto voi per migliorare magari l'inglese per tutto il resto vi aspetto nei miei videocorsi che vi rimetto qui in alto per andare a scoprire in cosa consistono e servono proprio per dare una svolta al vostro inglese e sono accessibili 24 ore su 24 con un attestato finale altrimenti vi aspetto qui su youtube iscrivetevi se ancora non l'avete fatto su instagram sculto you underscore milan o anche su facebook su telegram insomma vi lascio in descrizione a questo video le trame dei romanzi e anche tutti i riferimenti per rimanere in contatto con me e per il resto come sempre thank you very much for watching have a nice day and happy reading bye